Agli altri impegni di giornata di Giorgia Meloni, questa mattina c'è stato un prevertice in vista del Consiglio dei Ministri che si etterrà giovedì, Consiglio dei Ministri nel quale si discuterà del tema sicurezza, a parlare anche il Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, il decreto legge prevederà anche un percorso di rieducazione dei minori. Più sanzioni per i genitori che non mandano i figli a scuola è obbligo da parte dei presidi di segnalare le assenze ripetute. Ci sono anche queste misure allo studio del Governo sul fronte sicurezza perché il Ministro dell'Interno Piantedosi ne è convinto. Non basta la repressione, serve anche il recupero del minore e ospite di stasera Italia su Rete4 sul fenomeno delle baby gang annuncia. Già giovedì verrà portato qualcosa all'approvazione del Consiglio dei Ministri che sarà specificatamente orientato su questo tema. Io non voglio fare anticipazioni perché è giusto che passi prima attraverso le concertazioni interministeriali ma ci metteremo mano già a partire dal Consiglio dei Ministri. Si parla di una stretta sull'uso delle armi per i minorenni, dell'estensione anche a chi ha tra i 14 e i 18 anni di una sorta di daspo urbano che non consenta di avvicinarsi a determinate zone della città e di rimpatri più facili per i migranti che commettono reati. Stiamo affinando dei ragionamenti con le autorità territoriali per vedere di andare a cercare qualcosa di più, dove in qualche modo è immaginabile che questi ragazzi vivono e vivono detenendo delle armi. Il dibattito nel governo è ancora in corso, escluso per ora un intervento sui siti porno. Matteo Salvini ribadisce la richiesta di aumentare i controlli ma anche le sanzioni per la delinquenza minorile abbassando l'età dell'impunibilità. Il Ministro dell'Interno condivide ma ricorda che reprimere non basta, sottolinea la necessità di creare un senso civico. Per questo bisogna coinvolgere la scuola, poi annuncia interventi nelle città contro lo spaccio e il racket delle occupazioni abusive. Il blitz a Caivano delle scorse ore assicura è stato solo un primo passo per manifestare la presenza dello Stato e promette niente più zone franche.